La svolta leghista di Nello Musumeci, lanciata ufficialmente sabato scorso dal palco di Piazza Verde a Palermo, sta avendo un effetto domino. Dubbi, riposizionamenti, perplessità e guerre sotterranee per gli effetti che la scelta avrà sul nuovo centrodestra siciliano. Sul palco, a fianco di Musumeci, c'è il suo vice Gaetano Armao che appartiene a Forza Italia, ma che è sempre più nel mirino di Gianfranco Micicchè, che lo ha definito ex assessore, quasi a notificargli la fine del suo incarico in giunta. Armao, dal canto suo, precisa di essere stato invitato proprio dal governatore, sia a prendere parte alla manifestazione che a salire sul palco. L'invito è arrivato qualche sera prima, afferma l'assessore all'economia, nel corso di una cena alla quale era presente anche Antonio Tajani. Un po' a voler ribadire insomma che il suo partito resta quello di Forza Italia, all'interno del quale a legittimarlo sono proprio i vertici nazionali, al di là degli attacchi che giungono invece dal regionale. Ma il fuoco di fila aperto da Musumeci e dai suoi uomini contro Armao, in vista del rimpasto e quindi del suo defenestramento, è partito. La prova anche nell'ultimo incontro, che doveva essere un dibattito sullo scottante tema dell'accordo tra Stato e Regione sulle boccheggianti ex province, e si è invece trasformato da subito in un redderazionem interno a Forza Italia, con il capogruppo Giuseppe Milazzo, fedelissimo di Miciche, pronto a trasferirsi a Strasburgo, ma deciso a far fuori Armao, reo tra l'altro di aver sostenuto alle europee il sardo Cicu. L'accusa ufficiale ad Armao è quella di aver accettato un accordo capestro con lo Stato, ma quell'accordo, fa notare lo stesso vicepresidente della Regione e assessore all'economia, porta in calce la firma del presidente della Regione, Nello Musumeci, ed è stato condiviso e difeso da tutto il governo. Intanto Musumeci va avanti nel suo progetto politico filoleghista oltre lo stretto e con la Lega dialogherà già a partire dal prossimo 26 giugno, quando a Roma incontrerà tra gli altri il commissario del Carroccio in Sicilia Stefano Candiani, il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, il critico d'arte Vittorio Sgarbi, già assessore ai beni culturali nella prima giunta a Musumeci. È proprio Sgarbi ad ammettere che una sinergia tra Salvini e Musumeci non può che rivelarsi vincente perché il vento della storia va da quella parte.